Il magnetismo Il magnetismo è una bella cosa perché è molto utile Ci permette di attaccare gli oggetti ai magneti Ed è proprio di magneti che vorrei parlare Dove trovare questi splendidi magneti potentissimi? Sono magneti al neodimio e boro Sono delle leghe super magnetiche con cui sono fatti questi magneti Ma come si fa a trovare questi magneti gratis? Dove troviamo gratis questi magneti? Che sono molto utili Ci si possono magnetizzare i cacciaviti Ci si possono appendere i cacciaviti Mi serve un cacciavite? Eccolo qua Ora lo metto qui Potrei anche metterlo così Dove troviamo gratis questi magneti? La risposta a questa domanda giace in questo sacchetto Ecco dove troviamo magneti Magneti a non finire Dentro i vecchi hard disk Sono morti Sono distrutti Sono irrecuperabili Sono dei RAE Ma noi li smonteremo per recuperare magneti Magneti a non finire Magneti gratis Esiste un grave problema che va affrontato ogni volta che si cerca di smontare un hard disk Ed è questo Le maledette VT Torx Maledette Maledette Sia maledetto che le inventate Perché ci costringe a usare questi tool maledetti E trovare la misura giusta ogni volta è un inferno E quando lo trovi ovviamente poi il tool stesso si spana Si spana con una facilità incredibile E quindi non si riesce Non si riesce quasi mai a trovare un attrezzo adeguato E quando lo trovi lo usi 5 o 6 volte E si distrugge Si rovina irreparabilmente Oppure si rovina la testa della vite Il che è decisamente peggio Perché ciò contribuisce a farci bestemmiare Bestemmiare Ora vediamo se riusciamo a Smontarne uno E a recuperare questi magneti Con il maledetto Torx Tutte queste VT Torx Ecco vedete anche questo non va bene E ne ho già provati due Vediamo questo qua E anche questo non va bene E stiamo lì a provare Cacciaviti Torx del cacchio Per smontare una stronzata Questo non entra Veramente uno strazio Le viti Torx Sono uno strazio Ecco forse ho trovato quella giusta Fa un culo Ed è complicato Perché poi queste viti sono molto strette E quindi si stressa La punta dell'attrezzo Si stressa la vite E si stressa la persona Che non può far altro che bestemmiare Usando gli attrezzi maledetti Torx Per smontare queste maledette viti Torx Comunque il succo è semplice Bisogna svitare le viti Aprire questo coperchio E all'interno troveremo delle cose meravigliose Ecco vedete Già questo Si svita con difficoltà Ora ho tolto quelle esterne Diciamo così Ma qua dentro Sotto questa Plastica Ce n'è sicuramente una nascosta Eccola qua E anche questa va Tolta E bisogna esercitare violenza Con questi cacciaviti Non puoi Non puoi essere delicato Perché Forse qua sotto ce n'è una Eh si Vediamo Eccola qua Maledetta Un'altra Torx Nascosta E ora abbiamo tolto Tutte le viti Adesso si tratta di prendere Un qualsiasi Cacciavite E di Scardinare Ce n'è una Ah ecco qua L'avevo dimenticata Maledetta Viti Ed ecco a voi L'hard disk Nella sua Meraviglia Guardate che gioia Qui abbiamo un filtro Per l'aria Perché questo è un buco di ventilazione Che non andrebbe mai coperto Con gli adesivi Molte volte si trovano coperti Con gli adesivi Dei rivenditori Il che è un errore È un filtro Forse è un filtro al carbone Qui abbiamo il piatto dell'hard disk Che già Autonomamente Sta raccogliendo polvere Vedete che meraviglia Riesco a usarlo come uno specchio Di solito Una volta erano di alluminio Oggi sono di vetro Che fanno un bel suono Qui abbiamo le testine Che si muovono Leggermente appiccicate Perché queste Con la velocità di rotazione del disco Levitano sulla superficie Invece se il disco è fermo Rimangono appiccicate Ma qua Vedete già il cacciavite si attacca Qua sotto ci sono I nostri super magneti Quelli che dobbiamo recuperare E ovviamente abbiamo Altre viti torx Ovviamente Di un'altra misura Quindi dobbiamo cambiare questo E montare un altro bit E per miracolo ho trovato quello giusto Togliamo queste viti Una è qua Un'altra è qua Maledizione Vedete il fastidio delle torx È proprio un fastidio Svitiamo anche questa E ora possiamo sollevare Questa parte È veramente dura Perché il magnete Esercita una forza enorme Ed eccolo qua Questo è il magnete Il magnete È attaccato Di solito è Semplicemente Posato su questa Barra di metallo Perché basta il magnetismo stesso Per tenerlo in posizione Però a volte sono incollati Ora se voi cercate Di infilare una lama Qui sotto La lama sicuramente Vi si spezza E voi vi fate del male Quindi non fatelo Quello che io faccio È pinzare questo Pezzo di ferro In una morsa E dall'altro lato Piegarla Per separare il magnete Dalla sua parte di ferro Così recupero solo Il magnete Una nota interessante Queste viti Sono quasi Amagnetiche Per cui Vedete Si attaccano solo un pochino Non si attaccano Fortissimo Come questi Perché logicamente Stanno dentro un ambiente Dove ci sono dei magneti Della madonna E quindi Ora dobbiamo togliere Il gruppo testine Che è qua Per prendere il magnete Di sotto E questo Si fa Si può fare Esercitando la violenza Cosa che farò Quindi bisogna Disarticolare Questa parte In modo da far sì Che il magnete Qui sotto Vedete Già può uscire Ed è uscito Anche l'altro pezzo E abbiamo recuperato Due magneti Attenzione Se vi si chiude In mezzo Questo è il motivo Per cui uso i guanti Perché Vi potete Pinzare le dita E vi assicuro Che fa male Perché questi magneti Hanno una forza Veramente notevole Ecco Ecco Mi sono Pinzato il dito E mi sono fatto male Però Però va bene Che dire Cos'altro abbiamo Qui all'interno C'è un altro magnetino Molto interessante Che va recuperato Non so Non so a cosa Cosa possa servire Io ne ho un po' Li metto da parte Li conservo Qua c'è un filtro Dell'aria Interessante Questo filtro aria Che è messo qui Perché la rotazione Del disco Manda aria Ad alta velocità In questa intercazzopedine Qui E attraverso Questa intercazzopedine Passa attraverso Il filtro Il filtro raccoglie Le impurità E non le manda in giro Questa è Una curiosità Costruttiva Degli hard disk Dicevo L'altro magnetino È qui E per prendere questo Bisogna anche qui Usare un po' Di violenza Perché c'è una vite torx Ma io non ho intenzione Di svitarla Ecco fatto E qui abbiamo Un piccolo magnetino Un super magnetino Non è un granché Ma A qualcosa può servire Come vedete E abbiamo recuperato In tutto Tre magneti Il resto Si può decisamente Buttare Io di solito Recupero la scheda Elettronica Se il problema È di testine La scheda elettronica Può essere utile Per Per sostituirla Ad un hard disk Con la scheda elettronica Guasta La cosa È molto facile Sugli hard disk Più antichi È più complicata Su quelli nuovi Perché Perché le schede Recenti Contengono anche Una programmazione Della scheda Che è diversa Da disco a disco E quindi Spesso Sostituire Semplicemente La scheda Su un disco guasto Non è possibile Ed ecco La scheda Questo è un disco vecchio È un È un Un ID Normalissimo Quello che oggi Chiamano Pata Ma si chiama ID Si è sempre chiamato ID Questo è un disco ID E io continuerò A chiamarlo Disco ID E questo Si è sempre chiamato Connettore ID Quindi questo è Un ID Western Digital Anno 2000 Copyright 2000 Io potrei Conservare La scheda Con Con l'etichetta In modo da capire A quale disco appartiene Forse lo farò Forse no Adesso vediamo Come liberare I magneti Dalla loro parte Di metallo Vediamo se ci riesco Per fare questa cosa Utilizzerò Tre attrezzi Una morsa Da banco Una pinza E le bestemmie Quindi ora Noi pratichiamo Questo Ecco Facciamo così Questo Facendo attenzione A non pinzare Il magnete Perché Altrimenti Si rompe I magneti Sono molto fragili Quindi fate attenzione Io pinzo E piego Forse non c'è neanche Ah no C'è bisogno Della morsa E come Devo cercare Di piegare Questa parte Ecco fatto Vedete Io piego E come vedete Il magnete È già Si è già separato Automaticamente E ho un magnete In ottime condizioni Vi consiglio Di fare attenzione A non strappare La sua vernice Vedete Qua si è un po' Strappata Perché comunque È un po' Incollato C'è della colla Si vede Un pochino Si vede Ecco E questo è Un magnete Utile Per mettere Ad esempio La pinza Così Come potete vedere Grazie al magnete Posso tenere La pinza Dritta La stessa cosa Si può fare Con questo Qua è un po' Più facile Forse Basta pinzare qui E poi Sempre con la pinza Si prende qua Attenzione a non Prendere il magnete E si apre E il magnete Viene via Ecco Vedete qua Si è Si è staccato Ma Ha tolto un po' Della sua Verniciatura Ma non fa niente Il magnete Funziona benissimo Uguale Perfetto Questo Esaurisce L'argomento Quindi mi raccomando Se trovate Degli hard disk Guasti E vi servono Dei super magneti Ora sapete Come fare L'unico problema Sono le maledette VT torx Maledette Che sono Una maledizione Eterna Io se potessi Le proibirei Totalmente Maledette Per questi VT torx C'è solo una cosa Da fare Vanno prese Con cura E vanno buttate Nella spazzatura In realtà Gli hard disk Contengono altre cose Interessanti Intanto I piatti I piatti In vetro Che possono essere utili Per tante cose Ho visto fare Uno specchio Con questi Un gran bello specchio Devo dire Poi i motorini I motorini I motorini Sono strani Sembrano degli UFO Sono estremamente silenziosi E quindi vorrò provare A usarli in qualche modo Questo è uno Questo è un altro Di forma diversa Chissà Poi ci sono queste Specie di rondelle Che tengono i piatti Sul motorino Tipo questa Era qui Che è Dell'alluminio Riciclabile In quanto alluminio E proseguiamo Ogni tanto abbiamo Splendide sorprese Per esempio Questo max 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 Tor È un max Tor Da 30 giga No da 3 giga Boh No Da Vabbè Insomma Questo max Tor Aveva le maledette Torx Ma aveva anche Un paio di viti Normali Umane Umane Viti umane Che conserverò Tipo questa E quindi Per rimuovere i magneti Io Devo semplicemente Usare un cacciavite umano Non una cazzata Torx Inutile E lo stesso vale Per la scheda elettronica Viti normali Ogni tanto Qualche gioia Come ultima nota Relativamente A ciò che si può trovare Dentro un hard disk Ci sono dei Micro cuscinetti Veramente ottimi Ad esempio Questo all'interno Un cuscinetto E se si riescono a recuperare Sono veramente Degli ottimi cuscinetti Vediamo Qua C'è questa clip Da aprire Vedremo Che cosa salterà fuori Da qui Un'altra curiosità In questo hard disk Il gruppo motore È saldato È saldato E incollato Come vedete qua C'è della colla Che esce Allora io ho martellato Questo punto qui Ed è uscito Il rotore Molto bello Anche lui con dei cuscinetti Che cercherò di estrarre In qualche modo Non so come Ci vorrebbe forse Una mini pressa Non lo so E qua si può vedere Lo statore Con tutti gli avvolgimenti Molto bello da vedere Vabbè Vabbè Questo hard disk Ha 25 anni Ed è guasto Bad blocks Rumore di macellazione C'è scritto Quando lo provai Chissà quanti anni fa Vediamo insieme Cosa c'è dentro Perché dice Rumore di macellazione Forse una di queste testine Probabilmente all'interno È esplosa Beh Smontiamo E vediamo un po' Le testine Le testine Sembrano sane Se mettessi a fuoco Put Bah Quindi cos'è che faceva Rumore di macellazione La cosa bella È che dentro C'è questo Enorme magnete Spessissimo Un magnete enorme E qui ce n'è Uno più piccino Lo mettiamo qua Vabbè Come non detto I due piatti Sono perfetti Quindi non capisco Cosa fosse Questo rumore Di macellazione Il motorino Gira bene Forse le testine Occhio nudo Non si possono vedere Certi difetti Eccole qua Ma io Me ne sbatto Vediamo se riesco a tirare fuori Questa parte del motore Cafuddando martellate In questo punto Alla fine La martellata È stata un po' Più violenta Ma è venuto fuori Questo E non credo Che da qua Riuscirò a estrarre Dei cuscinetti Bah Chi lo sa Al di là Di questa Di questo Coacervo Di magneti Che abbiamo Recuperato Sicuro Abbiamo anche Dei cuscinetti Di testine Molto Carini Non so cosa Ci potrò fare Ma Sono cuscinetti Delle testine Tipo questo Che però Non riesco a estrarre Motorini Con cuscinetti Alcuni sani Alcuni Sfasciati Ma comunque Motorini Anelli Contro anelli Anellini Anelli Del cazzo E cagate Del genere Di tutte le forme Di tutti gli spessori E dischi Dischi A non finire Che so già Che finiranno Nella spazzatura Ne ho recuperato Un tipo Veramente Molto spesso Tipo questi due Come vedete I primi due Sono molto spessi Rispetto agli altri E vengono da un disco Che è un Seagate Barracuda Da 320 giga Aveva questi disconi Spessissimi Ve lo faccio vedere Rispetto a un disco Normale Spessore Enorme Enorme Ecco Così si vede meglio I primi due E gli altri Beh qualcuno È un po' più spesso Qualcuno Un po' meno Molto interessante Integri Non Sì Ma Sì Ma Grazie a tutti.